Santeramo in Colle ha scelto Vincenzo Casone sindaco con 6.956 preferenze alla seconda tornata, quella del ballottaggio raccolto il 60 e 82%, si è fermata al 39 e 18 invece la sfidante Michela Nocco che con 4.481 voti entra comunque in consiglio comunale insieme ad altri due candidati alla stessa carica, Michele D'Ambrosio e Anna Maria Labarile, resta fuori Maurizio Scaramuzzi. Ha votato il 49,40% degli eventi diritto al voto, 11.809 su 23.907. Anche nella città più alta della città metropolitana di Bari vince il centrosinistra, Casone era infatti sostenuto tra le altre liste anche da PD e con Nocco invece da Forza Italia e Fratelli d'Italia tra le liste. Una grandissima emozione ma soprattutto riabbracciare tutta questa squadra che mi ha sostenuto dal primo momento per me è il traguardo più grande. È stato un percorso molto difficile, compreso pieno di ostacoli, ho fatto prima le primarie, le ho vinte e poi ho fatto il primo turno, ero in vantaggio già in quel momento. C'è un gradimento trasversale, questo mi onora e mi carica di grande responsabilità. Grazie. Grazie. Grazie.